vai sono pronto ma bisogna pedalare un po' per arrivare a 40 e non ci si arriva subito no ti faccio la ripresa vai a questa velocità vai come me oh la coppa del mondo di via la roba la coppa del mondo di via 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 la coppa del mondo di via